Doverosa premessa, questo video è stato letteralmente un parto, dalla ricerca di informazioni fino alla registrazione, passando per il montaggio che devo ancora eseguire. Chiedo quindi il vostro supporto con like, iscrizioni, condivisioni, commenti e tutto quello che volete per far girare al massimo questo contenuto. Mi piacerebbe farlo arrivare a più persone possibile. Grazie mille per la collaborazione. Ehi piccoletto, ci facciamo un giro eh? Ah sì sì, come vuoi, come vuoi eh? L'altro giorno riflettevo tra me e me su questa enorme passione legata a Pokémon. Non è un passatempo a caso, è qualcosa che mi porto dietro sin da quando ero bambino. E se dopo tutti questi anni rimango ancora una volta ancorato a dei bellissimi ricordi, è perché sono riuscito a creare un brand veramente allucinante. Non ho problemi però ad ammetterlo, amo Pokémon, ma non tutto Pokémon. Anzi, spesso e volentieri mi sono trovato fuori target da diversi punti di vista. Sono davvero consapevole di essere uno stagefug, ma il ricordo legato a Pokémon è di quegli anni lì. Da quando si parte da Biancavilla fino a quando si arriva su Monte Argento. Quella è stata la golden age per Pokémon per tutti quelli della mia generazione e sono stati giorni davvero meravigliosi. Però ecco appunto, si parla di giorni. E sì, sarete alquanto sorpresi al termine di questo video. O almeno io sono stato esterrefatto nel ripercorrere quella che è stata la Pokémonia in Italia. Ho talmente tanti ricordi che ero convinto che fossero passati anni da rosso a blu fino alla terza generazione. E invece non è stato proprio così. Mettetevi comodi perché stiamo per compiere un piacevolissimo viaggio nel passato. Pokémon nasce da un'idea di Satoshi Tajiri negli anni 90 e questo lo sappiamo tutti. E infatti non voglio stare qui a ripetere a pappagallo informazioni legate al creatore di Pokémon perché sappiamo tutti della sua passione per gli insetti e bla bla bla. C'è però un'informazione davvero curiosa su quest'uomo che ho scoperto leggendo la sua pagina di Wikipedia. Numerosi fonti sostengono che Tajiri soffia di sindrome di Asperger. Anche se da Game Freak hanno smentito questo disturbo dello spettro autistico. Non ci sarebbe nemmeno nulla di male ma sarebbe davvero curioso vedere cos'è riuscita poi a creare una persona che sulla carta dovrebbe avere delle limitazioni in alcuni comportamenti. Un altro uomo di successo che ha effettivamente quel problema ad esempio è Elon Musk e non è proprio l'ultimo arrivato. Tajiri si diplomò in informatica per volere dei suoi genitori che volevano garantirgli un futuro in linea con un lavoro tradizionale. Eppure una delle sue più grandi passioni ovviamente oltre gli insetti erano le sale giochi. Era proprio lì che in mezzo a tantissimi videogiochi conobbe Ken Sugimori. Altro nome chiave di questa storia. Dal 1990 al 1996 i due lavorarono a stretto contatto per poi partorire i primi 151 mostriciattoli tascabili. E' affascinante pensare che ogni singolo pokemon sia nato dalla testa e partorito dalla matita di Ken Sugimori. Oggi noi li conosciamo tutti perfettamente ma prima di allora bisognava tirarli fuori dall'interno di quella scatola cranica. E infatti la prima data che dobbiamo ricordarci in questo video è proprio la seguente. 27 febbraio 1996. Il lancio giapponese di pokemon rosso e pokemon verde. Per darvi un'idea temporale due settimane prime in Italia veniva scarcerato Pacciani dopo la soluzione legata al processo del mostro di Firenze. Insomma è veramente una vita fa. Io in quel periodo avevo tre anni e mezzo circa. E dopo tre anni e nove mesi sempre in Giappone veniva rilasciata la seconda generazione. Il 21 novembre 1999 escono sul mercato nipponico pokemon oro e pokemon argento per Game Boy Color. E in Italia il primo contatto pokemon nella penisola è quasi contemporaneo alla seconda generazione giapponese. Tenete bene questa frase perché per me poi sarà collegata a quella che sarà la conclusione e la morale di tutto questo contenuto. Il 5 ottobre 1999 arrivano in Europa pokemon rosso e pokemon blu. Sì avete capito bene a fine 1999. Non so se questa cosa urta solo me ma il riferimento temporale non mi ritorna troppo. Non so perché mi ero convinto che la pokemon mania fosse un fenomeno di riferimento di fine anni 90. All'epoca avevo sette anni e per esempio ricordo benissimo tutti i discorsi legati ai problemi che avrebbe causato il millennium bug. E invece no perché pokemon è iniziato a diventare un fenomeno di culto agli inizi del nuovo millennio. Ricordo che a scuola di tanto in tanto si era già iniziato a parlare di quei mostriciattoli che venivano venduti nei negozi di giocattoli sotto forma di statuette. Se vogliamo erano un po' i precursori dei Funko Pop di oggi. Mentre all'epoca c'erano Pikachu, Charmander e Squirtle prodotti da Hasbro. Non ho ricordi del povero Bulbasaur forse già escluso all'epoca non so nemmeno se fosse mai stato distribuito all'inizio. Non ne ho proprio idea io ricordo sicuramente questi e forse me o Psyduck qualcosa di simile. Ma per far diffondere al 100% la febbre legata a pokemon è sapito principalmente l'anime. Il primo gennaio del 2000 arriva su Italia 1 il cartone animato trasmesso intorno alle ore 16 del pomeriggio. Ricordo di averlo visto per la prima volta in assoluto per puro caso in un pomeriggio in cui ero ammalato e dove era appena terminato Lady Oscar. Non mi piaceva me Lady Oscar, ero nel letto dei miei genitori. Termina appunto questo cartone animato e iniziano i pokemon. Ma chi li ha mai visti pokemon? Ecco ricordo che al termine dell'episodio ero stato così tanto conquistato da domandare a mia mamma uno di quei pupazzetti di cui vi parlavo prima. E il giorno dopo mio papà si presentò a casa con la statuetta di Charmander. Un caso? Un segno del destino? Non lo so. Però quella scelta mi segnò per sempre. Tant'è che tuttora il mio pokemon preferito sarò banale. Vai ciao Lizard. In poco tempo la scuola venne completamente assorbita dai pokemon. E iniziamo a giocare anche ai giochi per Game Boy. Ovviamente con pokemon rosso. Ancora una volta. Per colpa di Charizard. Vi ho già raccontato la storia che c'è dietro al mio primo pokemon in assoluto. Un Bulbasaur. Però mi fa sempre ridere quindi voglio ricordarvela. Pensavo che all'inizio del gioco si potessero scegliere tutti gli starter. Quindi iniziai da lui. E dopo la classica domanda del professor Hawk legato al soprannome dissi di sì. Purtroppo però non lessi soprannome. Lessi cognome. E quindi attribuì a quel Bulbasaur il mio cognome. Iniziai la lotta contro il Charmander del rivale. E lessi. Vai Toselli. Riavviai il gioco in tempo di record e scelsi subito Charmander. Poi il resto è storia. Ma la pokemon mania era soltanto iniziata. Infatti la Santissima Trinità non era ancora al completo. Perché dopo l'anime e dopo i giochi mancava ancora un pilastro all'appello. E cioè il gioco di carte collezionabili. Il set base arrivò in Italia il primo marzo del 2000. Avevamo quindi questa sorta di triunvirato. Con Mediaset che gestiva l'anime. Nintendo che gestiva i giochi. E Wizard che gestiva le carte. Io oggi mi immedesimo nei miei genitori. E mi domando quanti soldi siano stati spesi effettivamente all'interno di quel periodo. Spoiler. Tanti. Tra bustine e massi del gioco di carte collezionabili. Tra giochi e console Nintendo. Album di figurine. Come quelli dei Topsy che abbiamo già visto sul canale. E gadget di ogni tipo che venivano inseriti ovunque. Ma ve le ricordate le biglie dei pokemon? Oppure ricordate le pokeball con dentro le caramelle e le statuette dei pokemon da collezionare. O le merendine con il medaglione di cioccolato bianco e una calamita come sorpresa. I bambini di quegli anni venivano letteralmente bombardati dal brand pokemon. E non potevano fare altro che stressare quei poveri genitori per ottenere quei prodotti. Io mi ritengo molto fortunato. Perché i miei genitori mi hanno sempre accontentato in tutto. E mio papà sotto sotto credo che si divertisse. Lui già collezionava magic, collezionava le figurine dei calciatori. E quindi secondo me era molto felice di vedere che anch'io mi stavo approcciando a qualcosa. Che lui già conosceva molto bene. Come se non bastasse, pokemon aveva deciso di prendersi anche il grande schermo. Il 20 aprile del 2000 uscì al cinema il primo film in assoluto. Mew contro Mewtwo. E anche qui mossa geniale di marketing con una carta da collezione esclusiva legata al film. Il mio antico che divenne ben presto qualcosa di leggendario. Ricordo di aver scambiato questa carta ai tempi insieme ad altre come un Lister Serge Ferov e qualcosa che in questo momento non ricordo per uno Shining Charizard. Purtroppo al giorno d'oggi quel dragone è disperso e non fa parte della mia collezione. Sono però sicuro di non averlo mai scambiato o dato a nessuno. Quindi o me l'ha rubato mia sorella quando era piccolina o prima o poi salterà fuori magari in pessime condizioni perché si sarà infilato da qualche parte. E ovviamente Wizard aveva in mente anche altre espansioni dopo il set base. Jungle uscì in Italia a luglio del 2000. Fossil a novembre dello stesso anno. E l'espansione legata al Team Rocket uscì a febbraio del 2001. Non solo perché Nintendo ha deciso di pubblicare altri giochi spin off come Pokémon Pinball il 6 ottobre del 2000. E anche quello legato alle carte il 15 ottobre sempre del 2000. E anche qui neanche a dirlo al suo interno si poteva trovare una speciale carta promo da aggiungere alle collezioni. Ricordo anche per dire dei cd musicali con le canzoni all'interno legate all'anime. E anche lì dentro potevi trovare una carta da aggiungere alla collezione. Altre due date storiche legate a giochi Pokémon in Italia sono il 7 aprile e il 16 giugno sempre del 2000. La prima perché vedeva l'uscita in Europa di Pokémon Stadium per Nintendo 64. La seconda perché su Game Boy usciva pure Pokémon giallo. Per dare nuova linfa ai giocatori e per permettere di giocare una storia molto più simile a quella di Ash nell'anime. Ricordo ancora quando vidi per la prima volta giallo all'interno di un'altra baccheria al mare. Pensai ad un fake perché non ne avevo mai sentito parlare e all'interno delle televisioni non c'era ancora nessun tipo di pubblicità. Fa ridere pensandoci oggi perché con internet abbiamo tutto tra le mani in pochi secondi. Ma 24 anni fa il mondo era ben diverso da come lo conosciamo ora. Implorai mio padre di comprarlo e alla fine ottenni quella cartuccia come regalo di compleanno dato che faccio gli anni a fine luglio. E queste sono le ultime date importanti che dobbiamo ricordarci per il momento. Dal 5 ottobre del 99 dall'uscita di Pokémon rosso e blu fino ad arrivare al primo febbraio 2001 con l'espansione relativa al Team Rocket. Poco più di un anno dove era successo letteralmente di tutto tra film, serie, carte, giochi, gadget e chi più ne ha più ne metta. Soltanto 485 giorni dove in Italia non si parlava di altro. Una vera e propria bomba di marketing venne lanciata sullo stivale. E in quei 485 giorni si è conclusa la prima generazione. Avete capito bene perché l'espansione Rocket fu l'ultimo prodotto distribuito in Italia limitato alla prima gen. In Giappone avevano distribuito la seconda quasi nel momento in cui qui lanciavano il brand Pokémon. Quindi era arrivato il momento di mettersi in pari. Probabilmente quello fu il motivo per cui in meno di 500 giorni un'intera generazione si ritrovò sommersa da un brand che ancora oggi è tra i top. A livello mondiale. Era però presente un sacco di materiale dall'altra parte del mondo e andava soltanto distribuito e riadattato anche per noi occidentali. Spesso e volentieri mi rendo conto di quanto Kanto e Yoto siano alla fine la stessa cosa. Nei giochi di seconda generazione possiamo visitare la regione della prima, per esempio. Una volontà di rimanere ancora ancorati al passato per non gettare all'improvviso i bambini in preda ad un nuovo mondo senza riferimenti. Hai capito quinta generazione? Ascolta e impara, bitch. Eppure tra noi bambini si mormorava, e non poco, di altri Pokémon, magari anche già visti oltre a quelli che potevi catturare all'interno dei giochi di prima generazione. Dopo tutto, il 3 marzo del 2000, dall'uovo di Misti era nato un Togepi. Tracy all'interno del suo team dell'anima aveva un Meryl conosciuto ai tempi come Picablu. Ah, che grandissimi ricordi esplorare l'isola dei Nubi nella zona Safari per sbloccare Togepi, Picablu e tutta quella roba lì, mamma mia. E nei primi due film comparivano un Donphan, uno Slowking, un Lugia e tanti altri Pokémon di Yoto. E sì, perché se il primo film da noi è uscito aprile 2000, in Giappone erano già le prese da ben 5 mesi con Pokémon oro e argento. Da noi avvenne una cosa un pochino particolare. Il primo prodotto di seconda gen immesso sul mercato fu Pokémon Stadium 2 per Nintendo 64 il 26 marzo del 2001. Mentre solo successivamente, quindi il 6 aprile 2001, e con praticamente un anno e mezzo di ritardo rispetto ai nipponici, ecco arrivare anche da noi i giochi con i leggendari Cupertina Lugia e O. E dopo soltanto un mese d'attesa, quindi a maggio del 2001, ecco che arrivò anche la prima espansione di seconda generazione del gioco di carte. Quindi stiamo parlando di neogenesis in italiano. Ricordo però di essere entrato in contatto con alcune carte della seconda generazione prima dell'uscita della generazione stessa qui in Italia, Come poteva il mio cugino di Bologna essere in possesso delle carte, delle evoluzioni di Togepi, di Censie, di Scyther? Questi Pokémon non si evolvevano, dovevano essere dei falsi. Eh no, il cugino in questione questa volta esiste davvero, infatti queste carte ce le ho ancora custodite gelosamente all'interno della mia collezione. Guardatele qui, eccole. Insomma, Pokémon andava avanti all'interno di una simbiosi ancora più forzata tra la prima e la seconda generazione. In Giappone c'erano stati tre anni e mezzo di respiro, mentre noi già a novembre del 2001 usciva Pokémon Cristallo. E non solo, perché il 20 novembre si torna al cinema con l'incantesimo degli annone ed è protagonista del terzo film. A febbraio 2002 uscirà in Europa Neo Destiny, l'ultima esplosione del blocco Neo. Ad onore del vero la seconda generazione continuerà nel gioco delle carte, prima con Aquapolis e poi con Skyride dopo alcune ristampe del set base. Il layout delle carte però era cambiato, abbracciando la barra per la lettura delle reader che in Italia non è nemmeno mai arrivato. Insomma, il vintage vero e proprio, legato alla seconda gen, almeno per me, termina con Neo Destiny e le sue bellissime Shining con le tre stelline di rarità. Da ottobre 1999 fino a febbraio 2002. Poco più di due anni per raccontare due generazioni di Pokémon. 850 giorni che hanno letteralmente lavato il cervello a noi nati negli anni 80-90. Chi non ha vissuto quei tempi forse non potrà nemmeno mai capire questo discorso. Certo, si può essere fan di Pokémon ed essere nati, che ne so, ad inizio degli anni 2000. Ma quei giorni lì, quelli che vi ho appena raccontato, furono letteralmente spaziali. Io pensavo di aver vissuto, non lo so, 4-5 anni, l'intero percorso legato alle mie scuole elementari magari. Invece ci sono stati meno di mille giorni totali. Uscirono talmente tante cose, in un periodo talmente ristretto e compresso, da farmi cambiare completamente la concezione temporale che ho tutt'oggi sul brand Pokémon. Sono partito da bambino di 7 anni e sono arrivato, ironia della sorte, nell'anno in cui ne avrei compiuti 10, che è proprio l'età in cui nell'anime si parte e si va a diventare maestro di Pokémon. Il 2002 è stato un po' come l'anno di rendita per Pokémon, in cui ci si godeva quello che era già accaduto nei due anni precedenti e non vi era nemmeno più l'ansia di attendere qualcosa di nuovo. C'era già tutto, ed era bellissimo così. Semplicemente si stava vivendo il momento. E se in Giappone erano passati praticamente 6 anni da Pokémon rosso e verde fino alla terza gen, in Italia ce ne abbiamo messi meno di 4. Il 25 luglio del 2003, nel giorno esatto del mio compleanno, arriviamo a Dohen con Pokémon Rubino e Zaffiro. I nuovi giochi sfruttavano la tecnologia del Game Boy Advance, uscita in Europa il 22 giugno del 2001. E tanti ragazzi furono costretti ad abbandonare il brand Pokémon proprio perché non disponevano di questa nuova console. Ho tantissimi amici che hanno smesso davvero per quella roba lì. Un conto era comprare delle cartucce che poi venivano inserite all'interno dello stesso gioco. Ma comprare una vera e propria nuova console e anche i giochi, beh, era troppo. È come se non bastasse, beh, si stava crescendo. Io avevo 11 anni, quindi stavo andando anche alle scuole medie e iniziavano a cambiare anche le priorità e quello che si faceva con gli amici all'interno dei Pokémon Rigi Liberi. Ma io non ho smissi di giocare a Pokémon, eh? No, no, anzi. Io ho continuato con Owen, così come ho fatto pure con Sinno, per poi mollare a Unima perché non mi trovavo davvero più con il brand. E l'ultima data che voglio condividere con voi all'interno di questo video è il 1 ottobre 2004, data di uscita in Europa di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. A me Owen è piaciuta, devo essere onesto, ma sentivo che gli mancava qualcosa. Stavo giocando a Pokémon ma allo stesso tempo non ci stavo giocando. Mancavano alcuni Pokémon che amavo e magicamente con i remake di Kanto era tornato tutto al suo posto, tutto perfetto. Anche qui conosco dei ragazzi che acquistarono un Game Boy Advance soltanto per tornare a giocare a quegli stessi giochi di cui si erano innamorati, ma migliorati. Owen no, i remake sì. Ed è questo il forte, fortissimo potere della nostalgia che mi ha fatto tornare a giocare con X e Y anche a costo di acquistare un Nintendo 3DS. E questo è un discorso che sicuramente faremo più avanti, ma è anche il motore che mi ha spinto ad aprire questo canale in cui vi parlo di roba retro, di roba nostalgica. Ma nel frattempo, in Italia, la Pokémon mania continuava ma non era più scoppiettante e invasiva come in precedenza. Dal canto mio, uno dei motivi della passione che non voleva finire era legato ad internet. Iniziai a frequentare i siti, i forum, le community. Iniziai a collaborare anche con qualcuno di questi, cercavo le news, postavo le foto, le guide, tutto quello che cercavamo su web a tema Pokémon. Pokémon fu il motivo che mi spinse da autodidatta ad imparare ad usare il computer, una passione che poi divenne una laurea in informatica. Nel frattempo però ragazzi, la passione era diventato qualcos'altro. Il web, appunto, è la creazione di qualche piccolo contenuto a tema Pokémon. Io oggi faccio questo di mestiere, lo faccio sul calcio, ma l'idea di fondo è la stessa, parlare di quelle che sono le cose che mi appassionano. Insomma, questo canale è un po' una valvola di sfogo che mi permette di tornare all'origine. Un discorso lungo, forse faticoso, ma che va a chiudere. Un lungo viaggio, durato sinceramente anche troppi minuti, che sarà un inferno da montare. Ancora una volta chiedo il vostro supporto, perché sono veramente curioso di leggere commenti, soprattutto delle persone che quelle generazioni, quegli anni lì, li hanno vissuti. Sono riuscito a farvi sentire nuovamente negli anni 2000? Ho fatto emergere tutta la vostra nostalgia? Spero proprio di sì.